Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi un nuovo video a tema Harry Potter, ma prima di cominciare vi ricordo che su Pampling, utilizzando il mio codice sconto 7Potter, avrete il 20% di sconto su tutti i vostri acquisti presenti e futuri e lo sconto è cumulabile con tutte le offerte in corso. E in infobox trovate anche il link alla mia vetrina Amazon, nella quale andate a trovare tutti i prodotti selezionati da me a tema Harry Potter e di tanti altri fandom, come il Trono di Spade, eccetera, eccetera, e ragazzi, acquistando tramite questo link, sostenete il canale, a voi non cambia nulla e inoltre potrete anche vedere gli spoiler sulle cose che ho intenzione di acquistare e di portare in futuro sul canale. Ma ragazzi, adesso parliamo del volume di oggi che mi è stato gentilmente inviato da Magazini Salani, che ringrazio tantissimo e ragazzi, io naturalmente adesso lo andrò a sfogliare assieme a voi. Si tratta di una novità, è appena arrivata in libreria e ragazzi, si chiama Harry Potter, lo scrigno del mago, storie e oggetti dal mondo magico. Questo non è proprio un libro in realtà, ma è più un cofanetto, uno scrigno che all'interno contiene tantissimi gadget. In questo caso il tema è quello del viaggio verso Hogwarts. E questa scatolina qui, questo finto libro, chiamiamolo così, all'interno contiene tutto il necessario per affrontare il vostro viaggio verso Hogwarts. Quindi in questo scrigno c'è tutto quello che vi servirà per arrivare a scuola. Quindi naturalmente ci sarà all'interno la lista dei libri, ci sarà all'interno il biglietto del binario 9 e 3 quarti, i tag per la vostra valigia e tantissime altre cose molto molto utili. A me piace tantissimo questa serie. Ho già intravisto che in lingua inglese sono usciti, o stanno per uscire, altri cofanetti come questo dedicati alle varie case di Hogwarts. Quindi spero arrivino anche qui in Italia da noi. Ma ragazzi, io adesso direi di dare un taglio alle ciance e di andare a scoprire il contenuto assieme. Ecco qui il nostro bel cofanetto e adesso andiamo ad aprirlo. Spostiamo qui la fascia elastica e andiamo a scoprire cosa c'è al suo interno. La prima cosa che troviamo è questa lettera di benvenuto che ci porta al binario 9 e 3 quarti, ci spiega cos'è e ci dà anche la lista di quello che potremo andare a fare con il contenuto di questo cofanetto. Ed ecco che la prima cosa che incontriamo è proprio l'Hogwarts Express e all'interno troviamo una replica del biglietto del binario 9 e 3 quarti e vi dirò ragazzi, è la prima volta che ne vedo uno tradotto in italiano. E questa cosa mi piace molto. Binario 9 e 3 quarti da Londra Hogwarts, biglietto di sola andata, rilasciato secondo le disposizioni e le norme dell'Hogwarts Express Railway. Molto molto carino. Poi troviamo anche questo, anzi questo, che è un adesivo con lo stemma di Hogwarts magari da attaccare sul vostro bagaglio. E poi abbiamo anche il diario di viaggio dell'Hogwarts Express del binario 9 e 3 quarti, che è un quadernetto a righe dove prendere i vostri appunti. Con qui in basso abbiamo la silhouette dell'espresso per Hogwarts. Molto molto carino. Adesso apriamo ancora il nostro volume e qui al centro troviamo, molto carina, questa è una matita del binario 9 e 3 quarti, una matita con la gommina nera in cima. E poi questa busta qui con all'interno, vediamo cosa sarà qualcosa di necessario per il viaggio. Abbiamo una mappa del castello di Hogwarts, scuola di magistri con idea di Hogwarts, quindi così da non perderci durante la nostra prima visita a Hogwarts. Quindi molto molto carina, anche questa è in italiano, mi piace tanto questa cosa. E poi abbiamo, vediamo ancora cosa, una replica della lista delle cose da portare a Hogwarts. Quindi gli studenti del primo anno dovranno avere e abbiamo tutto il necessario, i libri di testo, le divise, il paiolo. Molto 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 carino. Poi vediamo ancora, c'è qualcos'altro. Abbiamo questa che è la lettera di accettazione ad Hogwarts. Questa è quella firmata dalla professoressa McGranit e indirizzata al signor Potter. Quindi abbiamo queste prime tre repliche al centro del volume, che poi non sono le prime perché abbiamo già visto anche la replica qui del biglietto dell'espresso per Hogwarts. Quindi molto molto bene. Adesso ci spostiamo, siamo ancora al binario 9 3 quarti e inizia il tuo viaggio ad Hogwarts da qui. Quindi apriamo questo e troviamo una prima introduzione al binario 9 3 quarti e poi girando ancora, ecco che troviamo questo, che è una tasca con dei tag da mettere nella nostra valigia, nel nostro bagaglio. Quindi gadget molto molto carino. E' una replica anche della segnaletica del binario, della piattaforma 9 3 quarti, con qui poi tutta la storia del binario. Cambiamo ancora pagina e qui troviamo un sacchetto di Mielandia e questo che è un segnalibro del Platano Picchiatore. Quindi ci informano del Platano Picchiatore e poi troviamo questo, che è una sorta di segnalibro, molto molto carino e anche di righello, quindi utile per la scuola. E' da notare che è stato utilizzato il nome Platano Picchiatore, non salice schiaffeggiante. E poi ecco che nel carrello di Mielandia invece troviamo... Vediamo un po', sono molto molto curioso. Oh, che carina, una cioccorana, ma c'è anche qualcos'altro. Oh, un portafoto. Abbiamo un portafoto dove mettere la foto all'interno, a forma di figurina della cioccorana. E poi abbiamo questo, che invece è un mazzetto di post-it a forma di cioccorana. Bellissimo ragazzi, davvero molto molto bello. Mi piace un sacco, ho fatto davvero benissimo. Continuiamo ancora col nostro viaggio e troviamo l'animale da compagnia che possiamo acquistare e portare a Hogwarts. Qui abbiamo degli adesivi con crosta, grattastinchi, fanni e edvige. E qui infatti sotto abbiamo la storia dei vari animali, dei loro proprietari. E poi questo invece è il finestrino del vagone dell'espresso per Hogwarts. E all'interno abbiamo delle card. Abbiamo delle card che sono delle cartoline. Qui abbiamo ad esempio il dissenatore, che si affaccia al finestrino. Qui possiamo vedere invece Hogwarts con i dissenatori. E poi ancora abbiamo questo, che invece è il lago nero. Davvero molto carino e possiamo scegliere noi cosa lasciare qui nel finestrino. Davvero molto molto carina questa cosa. Ma non finisce qui, perché chiudendo tutto possiamo andare ad aprire dall'altro lato. Questo qui. Siamo arrivati ad Hogwarts, ci viene introdotta la coppa delle case, i punti delle case. E poi naturalmente ci verrà spiegato quali sono le case di Hogwarts. E infatti ecco che troviamo anche questi, che sono degli adesivi. Abbiamo i vari stemmi delle quattro case di Hogwarts. E poi abbiamo delle schede con ognuno dei capocasa, diciamo. Chiamiamoli così, dei professori a capo di ogni casa. Quindi abbiamo la professoressa Sprite per Tasso Rosso. La Megranit per Grifondoro. Vitius per Corvo Nero. E Piton per Serpe Verde. Così abbiamo un'intera panoramica delle quattro case di Hogwarts. E poi ancora, andando avanti, ecco che abbiamo alcuni degli studenti di Grifondoro. Altri di Tasso Rosso. Altri di Corvo Nero. E altri ancora di Serpe Verde. Quindi abbiamo un po' uno smistamento. E qui abbiamo questa cartellina, che invece all'interno racchiude alcuni dei libri di testa. Quindi abbiamo le Fiabe di Bedelbardo. Abbiamo questo, che è Storia della Magia di Batilda Bat. E poi ancora questa, che invece è Rune Antiche, nel quale possiamo anche scrivere all'interno. E poi quest'altro, che invece è il libro standard degli Incantesimi. E andiamo ancora avanti. Arriviamo naturalmente a Luna e all'immancabile Cavillo. Qui troviamo una piccola replica degli spettrocoli, che possiamo staccare dalla faccia della copertina, che io ho sempre visto in Luna. Ho rivisto sempre in Luna, ma non credo sia lei. E abbiamo questo piccolo giochino qui su questa pagina, dove posizionando davanti i nostri spettrocoli, sveleremo chi si nasconde qui dietro. E adesso, sperando funzioni attraverso la videocamera, ve lo faccio vedere. Ecco qui. Sì, si nasconde il nostro Harry. Davvero molto, molto carina anche questa cosa. E il contenuto finisce qui. Ci sono davvero tante, tantissime cose. Ci sono anche cose da leggere. Questo lo trovo davvero molto, molto indicato da regalare ad un piccolo fan della saga di Harry Potter. E naturalmente, come sempre, da tenere in collezione anche per noi, che siamo un po' più cresciutelli. Harry, eccomi di nuovo qui. Ragazzi, ma quante cose ci sono all'interno di questo volume? Davvero un'infinità. Dagli spettrocoli, agli adesivi, alle card, alla matita, che è davvero molto, molto carina. Ci sono davvero un sacco di cose. Credo sia uno dei volumi con più gadget all'interno che io abbia mai portato qui sul canale. Sono davvero molto, molto soddisfatto. Mi piace davvero tantissimo l'idea che ci sta dietro. E assolutamente ve lo straconsiglio per aggiungerlo alla vostra collezione. Soprattutto anche per i piccoli prop che trovate all'interno. Se dovessi sceglierne uno, forse il mio preferito in assoluto è il Post-it Cioccorana, che trovo davvero geniale. È davvero molto, molto ben realizzato. Ed è ufficiale, è un prodotto ufficiale. Quindi sta bene anche fuori dal libro metterlo esposto con la sua parte superiore messa sopra, che è davvero carinissima. Sono davvero super, super contento. Ma mi piacciono anche le repliche delle copertine dei libri di testo. Mi piacciono le card. Mi piacciono gli spettrocoli. Davvero, non c'è nulla che mi abbia lasciato scontento all'interno di questo volumetto. Quindi, ragazzi, credo che sia un'ottima idea regalo per un piccolo fan, ma anche un grande fan. E, naturalmente, qualora dovessero uscire anche altri volumi del genere, sarò super contento di portarveli qui sul canale e di spulciarli assieme a voi. Bene, fatemi sapere voi sotto nei commenti cosa ne pensate, se lo conoscevate, se l'avevate già preso, se l'avevate già visto. Io vi lascio il link sotto in info box per acquistare questo volume. E vi lascio anche il link per acquistare il nuovo volume di Robert Galbraith, alias J.K. Rowling. Ragazzi, il nuovo volume della serie di Cormoran Strike, che si intitola Sangue inquieto. Che Salani mi ha già inviato, ma che non ho ancora ricevuto, quindi ve lo dico già adesso, perché comunque è già uscito, non l'ho ancora letto, ovviamente. Ma io sono un grande fan della saga di Cormoran Strike, quindi, ragazzi, assolutamente per me era imperdibile. L'avrei acquistato a prescindere il nuovo volume di questa saga, che, vi ripeto, mi piace tantissimo. Se vi piacciono i gialli thriller, io ve lo consiglio assolutamente. Vi consiglio anche di recuperare le prime stagioni della serie, che trovate, credo, su Sky, se non sbaglio. La trovate su NowTV, su queste piattaforme. La serie, appunto, di Cormoran Strike. Sono già stati adattati i primi tre libri, se non ricordo male. A me è piaciuta moltissimo, è davvero adattata benissimo la serie. E mi piace anche il cast che hanno fatto degli attori. Ma, ragazzi, di questo parleremo poi anche su Instagram, quando mi arriverà il libro. Ragazzi, io, quindi, a questo punto vi lascio tutti i link sotto, come vi dicevo, in info box. Fatemi sapere voi nei commenti. Iscrivetevi al canale a qualora non foste ancora iscritti. Condividete, lasciate un mi piace, commentate il video. E seguitemi su Instagram, antonio.seria. Detto questo, chiudo il becco. E vi do appuntamento prestissimo, con tante bellissime novità potteriane. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.